Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Dunque do il mio benvenuto ad Andrea Felici. Buongiorno Andrea, ben trovato. Buongiorno Elisa, naturalmente un saluto ai telespettatori di Radio Roma Television. Ti ringrazio, un saluto caloroso anche a te ovviamente. Allora partiamo subito chiaramente con la cronaca. Noi partiamo sempre dalle notizie un pochino più forti in un certo senso e torniamo purtroppo a parlare di droga, un problema che non si riesce proprio ad estirpare nella capitale come in altre chiaramente città di Italia. Ma so che questa volta i carabinieri hanno trovato addirittura un magazzino attrezzato e fortunatamente però ha finito in manette un quarantenne. Esattamente, i carabinieri hanno arrestato un quarantenne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacente. Di fatto i militari sono stati insospettiti da degli strani movimenti nei pressi proprio dell'abitazione dell'uomo e hanno effettuato così una perquisizione domiciliare. Da questa perquisizione è emerso addirittura, come tu anticipavi, un vero e proprio magazzino attrezzato a dessiccatoio dove la droga, in questo caso la marijuana, era stipata per la successiva fase di imballaggio e smercio. Oltre a questa stipata ce n'era già altra, per un totale di circa 19 kg, che era già invece pronta ad essere immessa sul mercato illegale per un potenziale introito di oltre 90.000 euro. La droga naturalmente è stata sequestrata, per l'uomo è stato convalidato l'arresto con misura di obbligo di firma in caserma. Naturalmente c'è da considerare, da specificare, che l'uomo è da considerarsi presunto innocente fino ad un'eventuale condanna definitiva e non appellabile. Però, come dicevi tu, il problema della droga è un problema estremamente importante e noi siamo assolutamente al fianco delle forze dell'ordine in questa lotta contro gli stupefacenti che non hanno solo il problema, che già sarebbe grandissimo, di andare a colpire la salute fisica di chi ne fa uso, ma poi queste situazioni comportano dei veri e propri terremoti nell'ambito familiare e non solo di chi purtroppo cade in questa trappola. Verissimo, ne abbiamo già parlato nei nostri appuntamenti precedenti, però è bene sempre ribadirlo, perché è un argomento di cui si parla molto poco, no? Cioè si cercano soluzioni alternative per aiutare le persone che fanno uso di sostanze stupefacenti o che spacciano, però non si punta mai l'attenzione, non si punta mai la luce sulle persone che stanno dietro, che magari sono familiari che cercano in un certo senso di aiutare queste persone, ma di fatto non ne hanno i mezzi, non ne hanno gli strumenti o non riescono semplicemente. Dunque è un problema anche e soprattutto per la famiglia, secondo me. Sì, certo. Poi consideriamo che persone che sono dipendenti da queste sostanze molto spesso non sono neanche molto lucide, quindi pur di avere soldi per poter accaparrarsi qualche dose, magari maltrattano parenti, familiari, mogli, fino ad arrivare magari a vere e proprie minacce o colluttazioni, spesso qui a Radio Roma Television abbiamo denunciato questi episodi di cronaca che sono molto molto gravi e ricordiamo che alla base di tutto questo c'è veramente lo spaccio della droga e quindi queste organizzazioni dietro alle quali si celano insomma i personaggi come quello di oggi sono situazioni che vanno prese davvero molto sul serio perché è un problema che sta diventando, come tu giustamente anticipavi, un problema veramente sociale. Sì, assolutamente, strutturale veramente in tutti i sensi. Passiamo poi al secondo argomento, Andrea, argomento molto caldo per la capitale, c'è i trasporti, perché ci sono le dichiarazioni anche di Patanè, l'assessore Eugenio Patanè che è tornato a parlare della questione fascia verde, anche qui tante polemiche in atto, però lui in maniera forse un po' provocatoria ha detto che in Roma ci sono più automobili che patenti addirittura. Sì, Eugenio Patanè che è l'assessore alla mobilità del Comune di Roma ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della conferenza del traffico e della circolazione. Lui ha proprio detto che i veicoli in sosta vietata sono spesso causa di incidenti, addirittura alcune volte anche gravi e il motivo di questo va a ricercarsi nel surplus di auto. Roma ha continuato l'assessore alla maglia nera anche per i morti tra pedoni e ciclisti e anche in questo caso ha additato il problema del surplus delle auto nelle nostre strade. Infine ha parlato della fascia verde dicendo che consentirà progressivamente di escludere da una parte importante della città i veicoli più vetusti introducendo vetture più sostenibili con a bordo anche tecnologia di sicurezza. Per chiarità, quello che dice l'assessore è assolutamente vero. Il problema è che il surplus delle macchine come lo chiama lui nelle strade romane dipende in parte anche da alcune deficienze delle strutture pubbliche quindi da una mancanza ormai atavica di parcheggi nella capitale piuttosto che purtroppo da un servizio pubblico di trasporto che non funziona. La gente prende la macchina anche perché non c'è un servizio pubblico di trasporto efficiente. Ecco, forse sarebbe più logico prima andare a rendere più efficiente il trasporto pubblico e poi eventualmente andare a contingentare l'utilizzo delle vetture però dare tutta la colpa soltanto al numero delle vetture mi sembra un po' una forzatura. Ripeto, Roma ha grande fami sia di parcheggi ma soprattutto di un sistema di trasporto pubblico finalmente efficiente. Poi è chiaro anche un altro aspetto Andrea, che ci sono delle persone che ovviamente non rispettano propriamente le regole della strada soprattutto a Roma cioè a Roma è risaputo c'è un vecchio modo di dire se vuoi davvero imparare a guidare devi imparare a guidare a Roma questo perché è una sorta di giungla soprattutto in certi diciamo quadranti della capitale però è chiaro come giustamente hai detto tu che forse bisognerebbe prima sistemare la base cioè il trasporto pubblico che ha delle evidenti carenze proprio ieri e so che è stato un lunedì l'altro ieri chiedo scusa un lunedì di passione a Roma Termini perché ci sono stati dei ritardi evidenti sulle linee ad alta velocità che hanno compromesso poi tutto il resto quindi capiamo che poi è anche un po' una catena in tal senso. Passiamo poi alla terza e ultima notizia che è quella che siamo sicuri terrà banco forse per un bel mesetto ancora Expo 2030 ci avevamo creduto Andrea però alla fine Roma ahimè arriva addirittura terza ma diciamo la verità ci avevamo creduto noi poco ufficialmente molto di più i nostri politici però purtroppo alla fine alla fine purtroppo abbiamo avuto ragione noi ha parlato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il voto di Expo 2030 che ricordiamo è andato alla città di Riyadh ha detto che è una brutta sconfitta per Roma che Riyadh ha dilagato oltre ogni peggiore previsione che bisogna accettare sportivamente la sconfitta che è stata schiacciante ha detto addirittura che alla città però rimane un bellissimo progetto noi ne siamo davvero molto contenti ma saremmo stati più felici dell'assegnazione di Expo 2030 a Roma quello che veramente è inquietante è il rapporto di forza nei voti perché il sindaco Gualtieri parla di una sconfitta contro Riyadh tra l'altro una sconfitta schiacciante perché Roma ha avuto 17 voti Riyadh 119 ma il vero problema è che addirittura anche la città di Busan che è una città della Corea del Sud ha quasi doppiato Roma perché ha avuto 29 voti contro i 17 di Roma io credo che più che dire che c'è stata una sconfitta schiacciante più che dire che i voti sono dati dagli ambasciatori però tutti quelli che erano gli ispettori hanno fatto i complimenti a Roma io credo che bisognerebbe prendere atto dei problemi reali di questa città e sinceramente in molti ridevano solo all'ipotesi che fosse possibile che una città nelle condizioni di Roma potesse ospitare Expo 2030 perché Riyadh sicuramente fa parte di un paese estremamente ricco come l'Arabia Saudita ma Riyadh è una città dove sinceramente il tenore di vita dei propri cittadini è purtroppo e dobbiamo dirlo estremamente superiore a quello che c'è nella capitale Assolutamente chiaramente però ora ci saranno una serie di polemiche che si sono già innescate ci sono state ad esempio le dichiarazioni dell'ex primo cittadino di Roma Alemanno che insomma ci è andato giù pesante contro Gualtieri dicendo che è stata una sorta di umiliazione per Roma il problema è anche un altro Andrea che si parla di danni strutturali anche per tantissime aziende perché ci sono delle aziende che avevano investito in previsione di questa magari vittoria presunta no? Sì poi a Roma quando si dà troppo adito a ciò che si sente dire da alcuni dalla politica romana in generale io non faccio un discorso partitico poi si rischia davvero tanto sì ma perché Expo 2030 sarebbe stato un toccasana perché sarebbe stato davvero un evento molto importante per far riprendere in parte l'economia di una città che di fatto sta morendo giorno dopo giorno questo è l'ennesimo brutto colpo a questa città e ripeto secondo me sarebbe importante più che andare a dire che la colpa è degli ambasciatori perché sono loro che votano mentre gli ispettori avevano fatto i complimenti al progetto di Roma sarebbe il caso di prendere atto della situazione disastrosa di Roma e magari cercare anche di risolvere qualche problema di là di qualche ex sindaco tu hai parlato di Alemanno ma ultimamente ha parlato anche la Raggi insomma va bene così adesso arriveranno le dichiarazioni di tanti ce lo aspettiamo sappiamo che è un argomento che sarà su tutti i titoli dei giornali di Roma per un bel po' di tempo bene noi abbiamo terminato il tempo a disposizione Andrea in conclusione diciamo che insomma noi puntiamo tutto sul giubileo sull'anno santo magari forse potrà dare una sferzata a questa città sotto questo punto di vista ce lo auguriamo io ti ringrazio nel frattempo per essere intervenuto anche oggi qui in questo spazio e ci ritroviamo sempre mercoledì alle 13.30 qui sul canale 14 grazie davvero Andrea grazie a Teresa un saluto a tutti i telespettatori di Radio Roma Television alla prossima settimana buon proseguimento di giornata grazie a presto chiaramente ricordo ai nostri cittadini che volessero approfondire le notizie legate alla nostra capitale Roma Daily News quotidianamente aggiornato con proprio tutte le notizie di cronaca attualità ed approfondimenti legati anche alla politica su www.romadilynews.it ci fermiamo per la nostra consueta pausa restate in nostra compagnia tra pochissimi istanti una notizia molto particolare che siamo sicuri farà piacere a tanti torna sulle nostre tavole la cucina povera non solo Roma le notizie dalla regione con Elisa Mariani grazie a tutti